che siamo contro paolo di da parola che sono su discord almeno vado sul suo discord facciamo i chiacchiere di lui dite a parola di andare su discord e paolo oh che bello dite di andare su discord spammati lo come dei pazzi devi venire su discord sono in rabbia sono in special ehi la ehi la ciao ale giochiamo contro ma su discord che ne dici va bene dai ma ma i legali di che ne vengono in tradiamo dove start a red probabilmente perfetto bianco botta è venuto 3 aersi di report è divertente così nooo fare sporcizie e cose strane ho sbagliato non è piaciuto il tornado volevi utilizzare schifoso che volevi fare ho fatto la build ragazza madre ho preso l'idea in blu porco 2 non so cosa comporti ma giudicare l'alto nooo non deve essere buono non particolarmente manco i soldi per le pozioni ricrevicabili quindi mi compro le mie pozioni di merda oh 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 nooo brava eh no ma non muore mai ma tanto è un buono ma questo è un genio questo che è mi sente vabbè non fa niente ragazzi mica mi cagli riferisce non pensi di aver mai giocato contro qualcuno su discord nel senso ad uq al contrario hai giocato le 1v1 ho punto al baron pit con me con su discord ma poi tu sei silenziosissimo metti ansia creare come un pazzo guardato tra yard avrei modo di far aperti la jungle boys ti chiedo solo di non guardarmi la mini mappa no ma che guardare la mini mappa ma la prima guardo la mini mappa perché si guardava tutto bravo mi viene da comunicare con te però mi viene da dire cosa devo fare perché siamo in due su discord cioè siamo su discord però in realtà siamo contro ma io so che sei a red buff probabilmente farei buff in tu bot più o meno si questa è veramente una pessima idea potrei gancare sto attento a Evviva, l'abbiamo preso Ah la Camilla smurf Better team wins Come sempre in solo più d'altro Better gender se non sei gender Paro, non direi che stai citando la bozza di scattolo che ti picchi Ma va, vedi ti vengono a rompere il cazzo per uno scatto della minca Fatti toccare almeno Camer, male di tutto ladro Ma, body blocka lei o no? L'ambo di blocca per me Ho preso a porta Ma questa è pazza Oh mamma Ma questa leone è patetica No no povrino Urzix Se fosse pure morto sarebbe impazzita quella lì Quello è stato dovevo far morire Sì magnanimo allora grazie Il loro scaling è fortissimo Il nostro è anche ok Ma contro gas e non si scalza Oh io ho il primo regalo E meno male ti devo pure sbagliare Non è che sei faker Sì ma sono a grazie di tipo di crazy Mamma che botte che sta menando Oh nice Sì è veramente un animato Fortuna FF Sì è risponde Così lo cacco Jace Ah no è Grace Grace quello è tossico Grace Non ricordo Non ricordo Tossico il tizio Ehm Ehm Odio quel tono di voce Ehm Sto parendo un bel pingato Tu Jace è veramente una bestia Non è una zecca Ma è proprio una capra Bene bene Perché non è andato bene Quell'altro Murtro Ehm È un grande inoku I Ed Guardalo Che come Get Lui Oh, buona forma, ragazzi. Universo, accogli il tuo imperatore, esco, ti disperso, le armate più possenti sono il mio comando. Peccato. Sto andando risettando, possiamo catturare Paolo, che ruota Emma ci ha visto, che ruota verso me. Niente, niente. Paolo deve essere verso la meta. Non è che stanno facendo le herald. Oh, evviva. Oh, evviva. Questa è Grey's all'herald. Oh. Oh. Che brutto flash. Che brutto flash. Nice, ho rubato l'Erad e abbiamo fatto una triple kill per 0 Non male Non so se riesce a tirare la capocciata No, si era di peso Bravo Eraldo, my boy Direi che full clear cosa vogliamo fare? Bravo Saramito non male abbiamo preso una bella litra ragazzi magari è concentrato la situazione per loro è complicata siamo bellezzi giustamente si banna per molto meno si banna ragazzi anche mi manca credo con balozzi no quindi si billa anche in quel modo gianno non è tipo super non lo so strano per gianno billaare quello lì che da boh fa la sorta di solari insomma anzi pelle proprio di solari dipende da quello che vuoi fare il praver scroll ragazzi comunque effettivamente comunque sei super tank io pensavo di one shot arti stanno giocando tutti bene i miei teammates se lo buffano si fa festa in effetti probabilmente è quello che hanno utilizzato tra tutti i letalty items però è interessante facciamo la mia R ehi ora finisci se vuoi fare 5 e chiudo va bene ahi ahi tanto stava spaccando la porta nel mentre mi sa impazzuto no random in realtà non so perchè ultimamente il praver scroll non so se qualcuno ve lo suggerite in chat o ha parlato dell'item oppure mi ha parlato di più gente in mente però è fighissimo andiamo a comprare che un po' di soldi è in tasca ah shield item vediamo già una scuda facciamo così facciamo così che è una figata oh baron 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 se vuoi ci andiamo beh beh ah 4 ma Maledetto Sbagliatevi Meno male Strabene Adesso possiamo fare il baron power Questa è colpa nostra ragazzi E' una personalizzata Ranked solo più personalizzata Nel senso che siamo in un contro Ci personalizzateli così Ok chi va a cadere Questi cani di merda Ma erano po' strati Frutti Flammano Ma va andate a fare in culo E' buon anno Ah dai Patetici Prossima scibica Cazzo si vede che è italiano Guarda Tutto anche il partecipation Questi hanno solamente Death partecipation Orco fuori Mamma mia Veramente inguardabile Ah mamma mia Terrificanti E le merda Per davvero Però Concentriamoci su di noi Giusto così Potevamo fare me Mi sarei aumentata Quando Leona mi ha ucciso botte Il primo errore Grave botte Non potevo mai morire Io Ed era una cosa anche Banata da risolvere Ho sbagliato anche con l'item Perché con un'altra Ed non morire Guarda guarda la differenza Tra i due ex Porco tu di Guarda Ma è tutto così O il game è nightmare O è superfagio Che sei inutile Quindi Questo devi rinunere Non lo so appare Perché è più intrigante Questo? Non ho capito Maggio devi rinunere Non lo so appare Perché è più intrigante Panda cattime Per Dementi King Mettiamoci insieme Magari ci becchiamo Vai vai Ma io con Servare il fish Per la prossima partita Ragazzi ma Tutta questa Veleno Ho paura Che vi ritornerà Contro Ragazzi Perché sono sicuro Che tutti i difetti Che trovate Su di me Non li troverete Su di voi Pezzi di me Allora Vado per il primo Flame dell'anno Lo farò contro Salvolare qualche bro Jimmy Jimmy Gianna tank Allora Jimmy Non hai Non hai il diritto Di parlarmi Non ti risponderò Risponderò a tutti quanti In chat Ma a te Ti ignorerò E se scrivi qualcosa Tutti per ma banno Allora ragazzi La vita è fatta Di amore e odio E Jimmy Io ti odio Amo tutti quanti Quelli vivi Sulla terra Tante Jimmy Jimmy guarda Sei una delle persone Che odio di più Jimmy Sei l'unico Che odio nel mondo L'unico Ma l'unica persona Tutti gli altri Ti vanno bene Ti ho scritto Gianna tank Ti odio Ehm 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 Grazie a tutti.